capitolo sessantesimo i pericoli si addensano e si dicono le peggiori cose invece d'andarsene a casa rodolfo si gettò nella prima vettura da piazza che pote trovare e facendosi portare verso l'ufficio di polizia del distretto nel quale erano avvenute le disgrazie del signor squeers disceso in una via vicina e pagato il cocchiere fece il resto della strada a piedi informandosi dell'oggetto delle sue sollecitudini apprese che la visita arrivava a tempo perché il signor squeers fra poco sarebbe stato trasportato in carrozza come un signore nella prigione ad attendervi l'esame da rinnovare fra otto giorni domandando di parlare al prigioniero rodolfo nickelby fu introdotto in una specie di sala d'aspetto nella quale si era permesso al signor squeers in grazia della sua professione scolastica e della sua grande rispettabilità di passar la giornata lì al lume di una candela fumigante e sgocciolante egli potea stento riconoscere l'insegnante profondamente addormentato su un banco in un angolo del fondo un bicchiere vuoto stava sulla tavola accanto a lui e il suo assoppimento e il bicchiere e l'odor penetrante d'acqua vite diffuso all'ingiro avvertirono il visitatore che il signor squeers aveva cercato nei conforti materiali un temporaneo oblio della sua triste condizione non fu facile svegliarlo così letargico e profondo era il suo sonno recuperando le facoltà mentali a lenti gradi e a deboli barlumi egli finalmente si levò a sedere e mostrando una faccia ingiallita un naso vermiglio e una barba ispidissima che tutti insieme aumentavano il loro effetto per mezzo d'un sudicio fazzoletto macchiato di sangue tirato sul cranio e legato sotto il mento guardò malinconicamente e silenziosamente rodolfo finché non poté formulare il suo pensiero con questa succosa sentenza sì bello mio siete stato voi e l'avete voluto voi proprio voi che avete fatto alla testa domandò rodolfo non sapete dunque che è stato il vostro impiegato il vostro spione il vostro braccio forte che me l'ha rotta ecco ciò che soggiunse squeers amaramente siete venuto finalmente perché non mi avete mandato a chiamare disse rodolfo come potevo venire non sapendo che cosa era accaduto la mia famiglia singhiozzò il signor squeers levando l'occhio al soffitto mia figlia che è in quella età in cui tutte le sensibilità scoppiano e si esaltano mio figlio il giovane eroe della vita domestica l'orgoglio e l'ornamento del villaggio estasiato che disgrazia per la famiglia l'emblema degli squeers è in frantumi e il loro sole si è tuffato nelle onde dell'oceano voi avete bevuto disse rodolfo e il sonno non è riuscito a farvi digerire io non ho bevuto alla vostra salute mio caro strozzino rispose il signor squeers così è cosa che non vi riguarda rodolfo represse l'indignazione suscitatagli dai modi insolenti così diversi da quelli di una volta dell'insegnante e gli domandò di nuovo perché non l'avesse fatto chiamare a che avrebbe giovato rispose squeers propalare che vi conosco non mi farebbe molto bene e prima che siano prese maggiori informazioni non mi sarà accordata la libertà controcauzione così eccomi qui ben chiuso e custodito ed ecco voi libero e spensierato e fra pochi giorni sarà così anche per voi ribatte il rodolfo fingendo del buon umore non vi si potrà torcere un capello caro sì credo che non potranno farmi nulla se io non spiego come è andata che io mi rider skew rispose squeers malvagiamente e che avrei voluto vederla morta e sepolta e risuscitata e sezionata e sospesa i fili di ferro di un museo anatomico prima d'aver avuto mai qualche cosa da fare con lei ecco ciò che mi ha detto stamattina quello con la testa incipriata prigioniero siccome voi siete stato trovato in compagnia di questa donna siccome voi siete stato scoperto in possesso di questo documento siccome voi eravate occupato con lei a distruggerne fraudolentemente altri e non potete dare alcuna giustificazione soddisfacente vi rimando alla settimana prossima per la continuazione dell'istruttoria e la raccolta delle prove e intanto non posso accettare una cauzione per concedervi la libertà provvisoria bene allora ciò che io dico ora si è che posso dare delle giustificazioni soddisfacenti posso presentare il manifesto del mio istituto e dire sono io quel walkford squeers nominato qui dentro sono io l'uomo che le più ineccepibili referenze chiamano un modello di moralità ed impareggiabile rigidità di principi il marcio che vi può essere in questa faccenda non mi appartiene io non avevo disegni malvagi io non sapevo che ci fosse nulla di male io servivo semplicemente un amico il signor rodolfo nickelby di golden square citate lui signor giudice domandate a lui ciò che ha da rispondere perché è lui l'autore di tutto non io qual era il documento che avevate addosso domandò rodolfo evitando per il momento la questione sollevata da squeers qual documento il documento rispose squeers quello di maddalena come si chiama era un testamento ecco che cos'era di qual natura il testamento di chi di che data per qual somma di che portata chiese vivamente rodolfo un testamento in suo favore è tutto ciò che so soggiunse squeers e non ne sapreste neppure voi di più se avreste avuto come me una botta di soffietto in testa e si deve intanto alla vostra preziosa cautela se esso è caduto in mano loro se mi aveste permesso di bruciarlo e aveste accettato la mia parola che era distrutto ora sarebbe stato un mucchio di ceneri nel focolare invece di rimanere sano e salvo dentro il mio soprabito battuto su tutta la linea mormorò rodolfo sospirò squeers che fra l'acquavite il dolore della testa rotta delirava stranamente nel delizioso villaggio di dothboys nei pressi di greta bridge nel yorkshire i giovani sono nutriti alloggiati vestiti provveduti di libri di biancheria di denaro per le spese minute forniti di tutto il necessario istruiti in tutte le lingue vive o morte matematica geometria astronomia trigonometria vale a dire trigonomica in tutto infine tutto ogni cosa da da aggettivo non di altro aggettivo sq u doppio e r s nome sostantivo educatore della gioventù totale tutto da squeers continuando a vaneggiare in questo modo egli aveva dato a rodolfo l'occasione di rimettersi al quanto e di pensare alla necessità di dissipare per quanto era possibile le diffidenze dell'insegnante e di fargli credere che la sua salvezza dipendesse dal conservare il più rigoroso silenzio vi ripeto ancora una volta disse rodolfo che non potrete riportarne alcun danno voi anzi con l'averne un guadagno inventeremo qualche cosa che vi farebbe uscire trionfalmente 20 volte da un incidente come questo senza alcuna importanza e se vi dovesse occorrere una cauzione per qualche migliaio di sterline per la libertà provvisoria nel caso di un giudizio successivo voi l'avrete tutto ciò che dovete fare di non dire la verità voi avete la testa un po confusa stasera e forse non siete in grado di vedere le cose con la chiarezza necessaria ma questo è semplicemente quel che dovete fare e dovete avere tutti i sensi desti perché un errore potrebbe essere pericoloso disse squeers che lo aveva guardato con occhio scaltro e la testa di lato come un vecchio corvo è questo ciò che ho da fare è questo allora sentite quello che vi voglio dire non vi scomodate a inventare nessuna storia per me perché io non ne accetto nessuna se trovo che le cose mi si mettono contro ma aspetto che ve ne prendiate la vostra parte e farò in modo che ve la prendiate voi non mi parlaste di pericolo io poi non ho mai trattato per trovarmi in un frangente simile e non intendo come credete di prendermela con tanta tranquillità io mi lasciai attirare dall'una all'altra cosa perché in un certo modo c'eravamo trovati insieme e a contrariarvi avreste potuto forse nuocere ai miei affari e a tenervi buono mi avreste dato una mano bene se ora tutto va liscio me ne starò zitto e farò conto di nulla ma se qualcosa va male allora le cose cambiano e io dirò e farò quello che mi sarà più utile e non accetterò consigli da nessuno la mia influenza su quei ragazzi aggiunse il signor squeers con maggiore gravità traballa sulla sua base le immagini di mia moglie di mia figlia e di mio figlio walkford tutti ridotti a morire di fame mi sono continuamente dinanzi ogni altra considerazione si dilegua e svanisce di fronte a questa il solo numero in tutta l'aritmetica di cui mi intendo come marito e padre è in questa fatalissima faccenda il numero uno per quanto tempo il signor squeers avrebbe potuto declamare o a che tempestosa discussione la sua declamazione avrebbe potuto condurre nessuno sa essendo interrotto a questo punto dall'arrivo della carrozza e da una guardia che doveva tenergli compagnia egli si mise con gran dignità il cappello sul fazzoletto che gli legava la testa e ficandosi una mano in tasca e prendendo il braccio della guardia con l'altra si lasciò condurre via come appunto avevo immaginato dal fatto che non m'aveva mandato a dire nulla pensò a rodolfo costui lo veggo chiaramente dalle sue chiacchiere di ubriaco ha deciso di rivoltarsi contro di me io sono così assediato e ridotto all'impotenza che tutti pure nel terrore che li ha invasi come le bestie della favola mi si scagliano contro e c'è stato un tempo e non più lontano di ieri che non c'era uno che non fosse pieno di cortesia e di servilità ma non mi smuoveranno non cederò non mi sposterò ad una linea se ne andò a casa e fu lieto di trovare la governante indisposta per avere una buona ragione di rimanere solo e di mandarla a letto dove essa abitava che era una stanza in quei pressi poi si sedette al lume di una sola candela e cominciò a pensare per la prima volta a tutto ciò che era avvenuto quel giorno egli non aveva né mangiato né bevuto dalla sera innanzi e oltre alle ansie durate era stato in giro di luogo in luogo quasi continuamente per molte ore si sentiva debole e stanco ma non poté tranne un bicchiere d'acqua portarsi alle labbra nulla e continuò a rimanere seduto con la testa appoggiata a una mano non a riposare o a pensare ma a cercare di fare penosamente l'una cosa e l'altra e riconoscendo che ogni sentimento salvo quello della stanchezza e della desolazione era per quel momento paralizzato erano quasi le dieci quando udì picchiare alla porta ma se ne rimase seduto come prima come se neppure si potesse costringere a fissare l'attenzione alla chiamata i colpi erano stati spesso ripetuti ed aveva udito parecchie volte una voce al di fuori dire che la finestra era illuminata si trattava della sua candela prima che fosse in grado di levarsi ed andar da basso signor nickelby vi è una grave terribile notizia e sono mandato per pregarvi di venire con me subito disse una voce che gli parve di riconoscere egli teneva la mano sugli occhi e guardando di sotto vide team link in water sui gradini venerdove domandò rodolfo nella nostra casa dove siete venuto stamane ho pronto la carrozza perché dovrei venire disse rodolfo non mi chiedete perché ma vi prego di venire una nuova edizione di stamane rispose rodolfo facendo come per chiudere la porta no no esclamò team afferrandolo per il braccio e parlando con gran calore è soltanto per dirvi ciò che è accaduto qualcosa di terribile signor nickelby e che vi riguarda molto da vicino credete che vi parlerei così o sarei venuto fin qui se non fosse necessario rodolfo lo guardò intento vedendo che era molto eccitato si sentì mancare non sapendo che dire che pensare sarà bene che sappiate la cosa ora piuttosto che un'altra volta disse team può essere importante per voi per amor del cielo venite forse un'altra volta l'ostinazione e l'ira di rodolfo non si sarebbero piegate a qualunque invito da parte della ditta ciribol comunque urgente ma in quel momento dopo un attimo d'esitazione andò nel vestibolo per pigliarsi il cappello e tornando montò in carrozza senza dire una parola team ricordava bene dopo e spesso disse che aveva visto rodolfo quando era entrato in casa a pigliare il cappello ondeggiare barcollare come un ubriaco egli ricordava bene anche che quando aveva messo il piede sul predellino rodolfo si era voltato a guardarlo con un viso così pallido e strano e smarrito che lo aveva fatto rabbrividire e per il momento quasi temere di seguirlo quelli che avevano visto rodolfo in quei momenti solevano dire che forse aveva qualche triste presentimento ma forse la sua commozione si poteva con maggiore apparenza di ragione attribuire a ciò che aveva sofferto quel giorno durante la gita fu osservato un profondo silenzio arrivato alla meta rodolfo seguì la sua guida nell'ufficio e in una stanza dove erano i due fratelli egli era così stupito per non dire intimorito da non so che di muta compassione visibile nei loro modi e in quelli del vecchio team che poteva appena parlare però essendosi seduto si sforzò di dire benché in frasi rotte che cosa che cosa avete da dirmi più di quello che già mi avete detto la stanza ampia e arredata da vecchi mobili era scarsamente illuminata e terminava in una finestra sporgente coperta da pesanti drappeggi volgendo uno sguardo da quella parte gli parve di discernere come la figura di un uomo nel vano si confermò in quell'impressione vedendo l'ombra muoversi impacciata sotto il suo sguardo la persona che ci ha portato due ore fa la notizia che ci ha deciso di mandarvi a chiamare rispose carlo ciribol per ora non ci pensate signore per ora non ci pensate altri enigmi disse fiocamente rodolfo bene signore nel volgere il viso verso i fratelli egli fu costretto a stornarlo dalla finestra ma prima che l'uno dei due parlasse egli si era voltato di nuovo era evidente che la presenza dell'incognito lo teneva a disagio perché ripete l'atto parecchie volte e infine come se non potesse fare a meno di guardare da quella parte si sede in modo da avere la finestra di fronte scusandosi di non poter tollerare il lume i fratelli parlarono fra loro per un po di tempo in maniera assai agitata a quanto pareva rodolfo li guardò due o tre volte e finalmente disse con un gran sforzo per dominarsi ora di che si tratta se io sono condotto via di casa un'ora simile che sia per qualche cosa che dovete dirmi e dopo una breve pausa aggiunse è morta mia nipote aveva toccato un tasto che rese più facile il compito dei due fratelli carlo ciribol si voltò e disse che si trattava appunto di una morte ma che la nipote stava benissimo non volete poi dirmi disse poi rodolfo con gli occhi sfavillanti che è morto il fratello sarebbe una notizia troppo bella non la crederei neppure troppo bella per essere vera non vi vergognate cuore snaturato e crudele esclamò l'altro fratello accalorato preparatevi per una notizia che se avete ancora un resto di sentimento umano vi farà rabbrividire e tremare se vi dicessi che un povero ragazzo disgraziato un bambino si potrebbe dire piuttosto che non aveva mai conosciuto le tenere carezze familiari o una di quelle ore d'affetto che fanno della nostra infanzia un tempo poi ricordato per tutta la vita come un sogno felice un'affezionata innocua cara creatura che non vi aveva offeso mai non vi aveva fatto alcun torto ma sulla quale voi avete sfogata la stessa malignità e lo stesso odio che avete contro vostro nipote facendo la strumento per colpire appunto costui se vi dicessi che questa povera creatura stremata dalla vostra persecuzione e dalla miseria e dai maltrattamenti di una vita breve di anni ma lunga di sofferenze è andata a narrare il suo triste racconto dove per la parte da voi presa dovrete sicuramente rispondere se voi mi dite disse rodolfo se voi mi dite che è morto io vi perdono tutto il resto se mi dite che è morto sono in debito verso di voi e obbligato per tutta la vita sì è morto ve lo vego scritto in viso chi trionfa ora è questa la vostra terribile notizia voi vedete come essa mi commuove avete fatto bene a mandarmi a chiamare avrei fatto un viaggio di cento miglia a piedi attraverso il fango le paludi e le tenebre per udire questa notizia a quest'ora anche in quel momento invaso com'era dalla sua gioia selvaggia rodolfo poteva vedere nel viso dei due fratelli mista con loro sguardo di disgusto e di orrore un'ombra di quell'indefinibile compassione per lui che aveva già osservato e la notizia ve l'ha portata lui disse rodolfo puntando con l'indice il recesso già menzionato e se messo lì senza dubbio per vedermi prostrato e annichilito ma io gli dico che io sarò per lui una grossa spina per lungo tempo ancora e dico di nuovo a voi due che non lo conoscete ancora e che un giorno vi pentirete d'aver avuto compassione di quel vagabondo voi mi prendete per vostro nipote disse una voce cupa sarebbe meglio per voi e per me anche se così fosse la figura rimasta indistinta nella tenebra si levò e s'appressò lentamente rodolfo sobbalzò perché non si trovò innanzi a nicola come immaginava ma a brucer rodolfo non aveva alcuna ragione che sapesse di temerlo non l'aveva mai temuto prima ma il pallore che gli era stato osservato in viso al momento di uscir di casa gli tornò di nuovo egli fu veduto tremare e disse con tono di voce mutato guardandolo che fa costui qui non sapete che è uscito dalla galera che è un furfante un volgarissimo ladro sentite ciò che ha da dirvi a signor nickelby chiunque sia sentite ciò che ha da dirvi esclamarono i due fratelli con tanta calorosa energia che rodolfo li guardò meravigliato e si indicavano brucer rodolfo lo fissò di nuovo con uno sguardo automatico quel ragazzo disse l'altro di cui hanno parlato questi signori quel ragazzo ripete rodolfo guardandolo smarrito che ho visto steso morto e freddo sul suo letto e che è ora nella tomba che è ora nella tomba e che giò rodolfo come se parlasse in sogno l'altro levò gli occhi e giunse le mani con aria solenne era il vostro unico figlio che dio mi protegga in mezzo a un silenzio mortale rodolfo restò seduto premendosi le tempie con le mani poi se le tolse dopo un minuto e una ferita non sfigura mai un viso umano al punto come apparve sfigurato in quel momento il suo egli guardò brucer che era allora a breve distanza da lui ma non disse una parola e non fece il minimo suono o gesto signori disse brucer io per conto mio non affaccio alcuna scusa è da parecchio che mi sono condannato da me stesso se nel narrarvi la sequela dei fatti dico che fui duramente trattato e forse spinto al male per il quale non ero nato lo faccio come una parte naturale della mia storia ma non per scusarmi io so d'essere colpevole e sinceramente me ne accuso egli si interruppe come per raccogliersi e stornando lo sguardo da rodolfo e volgendosi ai due fratelli continuò in tono umile sommesso fra quelli che avevano una volta degli affari con costui signori si tratta ad un venti o venticinque anni fa vera un signore gran cacciatore e gran bevitore che aveva scialacquato le sue ricchezze e voleva dar fondo anche a quelle di sua sorella essi erano entrambi orfani ed essa abitava con lui ed aveva la direzione della casa non so se in principio per affermare la propria influenza e tentare o no di accalappiare la giovane donna ma lui aggiunse indicando rodolfo soleva recarsi con molta frequenza in quella casa dell'estershire e trattenervisi ogni volta per molti giorni essi avevano avuto molti affari insieme e lui forse si recava lì per degli altri o per tentare di mettere un riparo a quelli dell'amico che andavano a rotoli ma naturalmente sempre con lo scopo di guadagnarci la sorella dell'amico non era molto giovane ma so che era bella e possedeva una molto rispettabile proprietà in seguito lui la sposò la stessa sete di lucro che lo aveva indotto a contrarre questo matrimonio lo indusse a tenerlo rigorosamente segreto perché una clausola nel testamento del padre della moglie dichiarava che se lei si fosse sposata senza il consenso del fratello la proprietà della quale essa godeva solo l'usufrutto rimanendo nubile sarebbe devoluto interamente ad un altro ramo della famiglia il fratello non dava il consenso ma intendeva venderlo e a buon prezzo il signor nickelby non voleva sentir parlare di un sacrificio simile e così si continuò a tener segreto il loro matrimonio in attesa che il fratello si rompesse il collo o morisse di una febbre maligna egli non fece né l'una cosa nell'altra e intanto il frutto di quel matrimonio segreto fu un figlio che fu messo a balia molto lontano la madre non lo vide che un paio di volte e sempre di soppiatto e il padre assetato del denaro e in procinto di impossessarsene perché il cognato era gravemente infermo e deperiva di giorno in giorno si guardò bene per evitare ogni sospetto dall'andare a visitare il figlio il cognato non si decideva a morire la moglie del signor nickelby lo sollecitava a rivelare il loro matrimonio ma lui perentoriamente rifiutò di farlo lei rimase sola in una triste casa di campagna senza altra compagnia che quella di pochi cacciatori chiassosi e beoni lui viveva a londra tutto immerso negli affari vi furono irosi litigi e recriminazioni e dopo quasi sette anni di matrimonio e a poche settimane dal tempo in cui la morte del fratello avrebbe accomodato tutto lei scappava con un giovanotto a questo punto egli si interruppe ma rodolfo non si mosse e i fratelli fecero cenno a brucher di continuare fu allora che io appresi queste circostanze dalle sue stesse labbra non erano segreti allora perché il cognato e altri le conoscevano ma non perciò mi furono comunicate ma perché egli aveva bisogno di me lui inseguì i fuggitivi alcuni dissero per mercanteggiare la vergogna della moglie ma io credo per vendicarsi perché il desiderio della vendetta e l'istinto del lucro si equiparano in lui seppur non prepondere il desiderio della vendetta i fuggitivi non furono raggiunti e lei morì non molto tempo dopo non so se lui non cominciasse a credere di poter voler bene al fanciullo o se desiderasse fare in modo che non capitasse nelle mani della madre il fatto sta che prima di partire mi affidò l'incarico di portarglielo a casa e così feci e brucher continuò giunto a questo punto a parlare in un tono ancora più umile sommesso indicando rodolfo lui mi aveva maltrattato crudelmente glielo rammentai non molto tempo fa incontrandolo e io lo odiavo portai il fanciullo in casa del padre e lo tenne in soffitta dalla parte della facciata negletto come era stato era assai malaticcio e io fui costretto a chiamare il medico il quale disse che si doveva fargli cambiare aria se non si voleva vederlo morto credo che questo mi facesse venire in mente la prima volta ciò che poi feci lui era stato assente un mese e mezzo e quando ritornò gli dissi con tutti i particolari ben studiati e provati nessuno avrebbe potuto sospettarmi che il fanciullo era morto e sepolto sia che rimanesse deluso in qualche progetto vagheggiato sia che non fosse assolutamente insensibile a qualche affezione naturale il fatto sta che se ne addolorò e io mi rafforzai nel mio disegno di rivelargli un giorno il segreto e di farmene un mezzo per cavargli del denaro avevo sentito parlare come tanti altri delle scuole degli orsia condussi il fanciullo in una tenuta da un certo squeers e ve lo lasciai gli diedi il nome di smike pagai venti sterline all'anno per sei anni non facendomi mai uscire di bocca una parola in tutto quel tempo poiché io dopo altri maltrattamenti e ripetute querele avevo cessato di servire il padre fui deportato sono ritornato quasi dopo otto anni appena di nuovo in inghilterra mi recai nel yorkshire e aggirandomi nel villaggio una sera mi informai dei ragazzi dell'istituto e scopersi che quello lasciato da me presso squeers era fuggito con un giovane che portava il nome di nickelby cercai il padre in londra e accennando a ciò che potevo dirgli gli chiesi un po di denaro per aiutarmi a vivere ma lui mi respinse minacciandomi allora trovai il suo impiegato e a poco a poco dimostrandogli che verano delle buone ragioni per tenersi in comunicazione con me appresi ciò che accadeva e fui io che gli dissi che il ragazzo non era figlio di colui che pretendeva ad essere suo padre in tutto questo tempo non avevo mai veduto il ragazzo infine seppi dalla stessa fonte che gli era gravemente ammalato e dove si trovava feci un viaggio fin lì per potermi se possibile farmi ricordare da lui e dare una conferma al mio racconto arrivai presso il malato improvvisamente ma prima che potessi parlargli lui mi riconobbe aveva delle buone ragioni per ricordarsi di me povero ragazzo e io avrei giurato che era lui anche se lo avessi incontrato nelle indie rividi il melanconico volto che avevo conosciuto nel bambino dopo un po di giorni di indecisione mi rivolsi al giovane signore a cui era affidato l'infermo e appresi che era morto egli può dirvi come smaic mi avesse riconosciuto subito come frequentemente facesse la mia descrizione quella delle circostanze del giorno che lo lasciai nell'istituto e della soffitta in cui aveva abitato la quale è ancora oggi nella casa di suo padre questa è la mia storia domando d'avere un confronto con l'insegnante ed essere sottomesso a tutte le prove che si vorranno perché dimostrerò che quello che dico è d'una esattezza matematica purtroppo è questa la colpa che mi pesa sulla coscienza disgraziato dissero i due fratelli quale riparazione ora potete offrire nessuna signori nessuna nulla da fare e nulla da sperare sono vecchio da anni e più vecchio ancora di miserie ed affanni questa confessione non può fruttarmi che nuove sofferenze e forse un nuovo castigo ma io la faccio e la sosterrò che che accada io sono diventato lo strumento di questa terribile vendetta sulla testa di un uomo che nella cieca esecuzione dei suoi tristi disegni ha perseguitato ha infierito contro suo figlio fino a farlo morire il castigo deve colpire anche me so che cadrà anche su di me la mia riparazione giunge tardiva e né in questo mondo né nell'altro potrò avere alcuna speranza aveva appena finito di parlare che la lampada che stava sulla tavola presso rodolfo e che era l'unica nella stanza fu rovesciata a terra lasciandoli al buio vi fu un po di confusione per avere un altro lume ma quando apparve rodolfo nickelby era scomparso i buoni fratelli ciribol e tim link in water si occuparono un po a discutere la probabilità del suo ritorno e dopo che apparve evidente che egli non sarebbe più tornato esitarono se dovessero mandare a cercarlo o no finalmente considerando come era rimasto immobile e chiuso in un silenzio strano durante il colloquio e pensando che forse si era sentito male risolsero benché in un'ora così tarda di mandare in casa sua con qualche pretesto trovando una buona scusa nella presenza di brucher per il quale non sapevano che fare senza consultare i desideri di nickelby decisero prima di andarsene a letto di mandargli un messaggio grazie a tutti